Roberto Rosso, l'ultimo intervento Roberto. Grazie. Siccome non ti sei mosso da Colleferro, c'hai cinque minuti. Mi scuso per questa mia assenza che mi ha privato della vostra compagnia e per cui ancora ci vediamo tramite schermo. Il mio intervento, riprendendo quello di cui spesso scrivo su Transform, è stata citata l'intelligenza artificiale. In realtà si parla di quello che è l'artificializzazione della vita e cioè il fatto che se quello che è lo sviluppo di quella che è chiamata intelligenza artificiale, che è un sistema molto complesso di tecnologie, perché le ultime, quelle che sono venute all'onore dell'economia di GPT, sono un'innovazione tecnologica che più o meno risale a pochi anni fa, nel 2017. E indubbiamente nei prossimi anni vedremo qualcosa di assolutamente straordinario o mostruoso, a seconda di come lo si voglia vedere. Io credo che continui più il contesto. Il contesto in cui si afferma questa tecnologia è ovviamente i principi di funzionamento del capitalismo e va da sé. Voglio dire, le sette big tech, quindi le sette grandi aziende che dominano questo mercato, sono quelle che hanno una capitalizzazione di borsa che viaggia attorno ai 2 mila miliardi di dollari, per capirsi. Però quella è una cosa di breve periodo. Il problema è cosa accadrà nel lungo periodo. Nel medio e lungo periodo la cosa fondamentale è però il contesto in cui questa tecnologia, secondo logica capitalistica, si muove. Ed è quella di crisi radicale della vita. Quindi gli interventi che hanno fatto riferimento alla vita, e in tutte le sue accezioni credo siano fondamentali. E cioè che da questo punto di vista le tecnologie digitali rivoluzionano, questo si sa, tutti i processi di riproduzione dei rapporti sociali, l'orario di lavoro, eccetera, ma sono ondate e ondate che negli ultimi decenni hanno già prodotto straordinarie modifiche della composizione sociale, senza che questo, voglio dire, abbia dato, come dire, sia stato usato in modo da ridurre il tempo di lavoro in termini generali, non per alcune ridotte categorie di lavoratori. Quindi il problema dell'artificializzazione della vita implica che dentro la crisi climatica, dentro la rottura degli ecosistemi e riduzione della biodiversità, i processi di riproduzione sono sempre di più mediati dalla dimensione tecnologica e questo penetrare sempre di più della tecnologia, ciò avviene dal neolitico, ma evidentemente siamo in presenza di qualcosa di molto più esteso. Questi processi penetrano molto di più e questa cosa noi la vediamo ovviamente nell'impazzimento, se vogliamo, di quella che sono i processi di riproduzione. Si è parlato dell'inverno demografico in Italia, il problema da questo punto di vista non è che siamo 8 miliardi anche al mondo, abbiamo superato gli 8 miliardi, ma appunto il fatto che i processi di riproduzione delle popolazioni sono estremamente differenziati e sono il frutto di quella che è sostanzialmente la logica di concorrenza e non di collaborazione che presiede alla riproduzione della formazione sociale globale. Quindi noi dobbiamo leggere il problema dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie digitali, di cui si parla tutti i giorni e tutti i minuti su tutti i media, quindi è inutile fare un qualsiasi riassunto, dentro questa trasformazione radicale dei processi di vita. Quindi chiaramente per come ne parlava Petrella, per come se ne parla quando si parla di intersezionalità, per come se ne parla per esempio dentro il numero dell'osservatorio sull'agricoltura in Europa, noi dobbiamo ragionare in questo momento sul rapporto tecnologia-visa in tutti i suoi aspetti. Da questo punto di vista se noi non facciamo questo tipo di ragionamento, io credo che anche il nostro ragionamento in termini di politica rischi di viaggiare in superficie e di perdere sostanzialmente in profondità. In tutto questo la guerra, evidentemente al di là della retorica occidentale, è diventato un processo di regolazione delle relazioni e di una riproduzione sociale complessiva fondata sulla competizione. Quindi anche la guerra in realtà diventa parte della riproduzione, questa è la cosa straordinaria, lo è sempre stato, ma lo è particolarmente oggi in termini di attualità e di potenzialità e da questo punto di vista la tecnologia è sempre di più un qualcosa che sostanzialmente serve a sopravvivere in un mondo in cui le basi stesse della vita sono messe in crisi. C'è il famoso discorso che ogni anno è sempre più vicina alla data in cui consumiamo tutte le risorse prodotte in un anno oppure l'accaparramento, il land grabbing, l'accaparramento della terra perché nessuna nazione ha sufficientemente terra per sostenere la spropria popolazione, quindi ripeto e su questo chiudo, io credo che noi dobbiamo ragionare della tecnologia, in particolare nel nesso tra tecnologie digitali, tecnologie della vita, tecnologie dei materiali, sul rapporto in relazione alla crisi complessiva di riproduzione della vita intesa come vita dell'umanità, vita sociale, ricambio organico e vita in generale. Credo che su questo noi dovremmo riflettere e qui la finisco. Grazie Roberto, l'ultimo intervento.